...è l'Alessio La Musione che ha cantato il buono Reilis Fiat. Salutiamo il gruppo storico e culturale Praes e la Proloca Centro Storico Genovese che rappresentano il legame per il passato e il futuro. E la riempiamo anche il basilico di Prani e Cestini. Bene. C'è un amore al sindaco Marco Bucci che procederà al taglio del nastro per dare via a questa fantastica... Non è andata avanti, eh! ...a seguiremo il sede Gasparini che condanna in un percorso attraverso Bocchi Ragazzi, ma non riesco a lavorare. Non riesco a lavorare. Vi ho aspettato che per fare lo so, che com'è? Va bene, dai. Bravo! Bravissimo! Corbici! 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 Dove sono le corbici? Ecco le! Ecco le! Toti, guardi la telecamera che malpita con la telecamera! Vedi? Guardate che roba! Toti, Toti! Penso, capellino, tu meglio! Bravissimo, Toti! Risposti verso il sindaco, presidente! Ecco, guardi, tira la telecamera! Tiratelo, pince, ma... Giù su una strofinite, perché se no lì sulle palle di Toti mi sembra un po'... Si sbaglia poi... Dai, aiutate la bambina, giù! Aiutatela! La facciamo alzare un po' di più! Brava, l'attento io! Ora, Mocce mi taglia di netto la palange! La testa... La testa di quel signore di sotto! Porta, puttana! E, Toti, guardi qua! Guardi, grazie! Grazie, guardi su! Bravo, guardi qui! Vai, vai! Toti, guardi qua! Grazie, Toti! Grazie! Grazie, Toti! Ce l'abbiamo fatta! Grazie, Toti! Grazie, Toti! Bravissimi! Mi sentite la mano, per favore! Ci sentite la mano, per favore! Dopo, potresti... Ma mette in sotto? Sì, sì, grazie! Forza che ce la facciamo! Grazie! Forza che ce la facciamo! Forza, per favore! Bravi! Bravi! Bravi, senti qua! Restete qua sopra! Bravi! Grazie!